Buongiorno a tutti, di nuovo collegati in diretta con il telegiornale di Udinese TV in apertura. Il turismo che riparte con però tanti dubbi e tante difficoltà per chi cerca di muoversi in questa estate che comincia ufficialmente per l'Unione Europea con il primo di luglio, con il Green Pass. Per parlare di tutto questo ma anche delle attenzioni che i consumatori devono avere in questo momento, siamo con Monica Nardini in esterna, con un altro collegamento in esterna. Questa volta dalla sede di consumatori attivi in Viale Tricesimo. Buongiorno Monica, ben ritrovata. Sì, ben ritrovati Valentina, siamo proprio in Viale Tricesimo nella sede di consumatori attivi, accanto a me la vicepresidente Barbara Venuti che ha dei consigli da darci per quanto riguarda questo Green Pass europeo in particolare, sul fronte anche della diffusione di questo Green Pass che assolutamente non va fatta via social, vero Barbara? Assolutamente sì, ci sono arrivate delle segnalazioni per le quali viene data disponibilità del Green Pass o certificato verde attraverso dei canali Telegram, attraverso un pagamento tra l'altro anche non da poco conto. Ricordiamo che il Green Pass è assolutamente gratuito, digitale piuttosto che stampato. Per chi non ha possibilità, non dispone ovviamente di una mail, non è un grande utilizzatore di piattaforme informatiche, è possibile ottenerlo attraverso il meico di base, con la semplice tessera sanitaria del codice fiscale, piuttosto che in una farmacia esibendo ovviamente documenti personali. Per cui ricordiamo che è assolutamente gratuito e è un codice univoco che contiene i nostri dati sensibili, quindi non diffondiamolo attraverso i canali social, non diffondiamolo attraverso l'utilizzo ovviamente di piattaforme digitali come possono essere Telegram piuttosto che Whatsapp, piuttosto che signala come tanti altri, perché diventa diciamo così uno strumento che potrebbe essere utilizzato in maniera impropria. Entrerà in vigore per quanto riguarda i 27 Paesi europei da domani. Una delle ultime FAQ nel sito del Governo dice che comunque fino al 12 di agosto non preclude il viaggiare nei 27 Paesi europei, per cui esibendo il certificato del ciclo vaccinale completo, piuttosto che i test antigenici o molecolari, piuttosto che il certificato di guarigione avvenuta, io posso circolare nei Paesi europei. Diversamente posso anche richiedere il Green Pass attraverso l'utilizzo delle piattaforme dedicate, scaricandolo dalle app Io Immuni come anche dal nostro fascicolo sanitario attraverso le credenziali, lo Speed. Ripeto, per chi non è informatizzato e non ha, diciamo così, domestichezza con questi strumenti, è possibile accedere a queste informazioni attraverso il medico di base o la farmacia. Ci sono diversi aspetti che creano confusione anche nella popolazione, per esempio voi avete ricevuto telefonate anche con domande prima, seconda dosi di vaccino, cosa bisogna fare? Sì, esatto, anche in questo caso ci sono situazioni per cui i vaccini che vengono somministrati in un'unica dose possono già ottenere il Green Pass, però anche in questo caso le FAQ non sono molto chiare. Come chi ad esempio ha concluso il ciclo vaccinale prima del 24 giugno, quando il garante della privacy è autorizzato ovviamente alla diffusione del Green Pass, adesso ovviamente chi ne hanno diritto assolutamente anche loro deve farne richiesta, i tempi saranno un po' più lunghi perché vanno recuperati ovviamente i nominativi già passati al vaglio dei vaccini sostanzialmente. Le altre difficoltà riguardano il conteggio per esempio dei 180 giorni da quando io sono guarito, quindi bisogna conteggiare dal primo tampone positivo. Lo stesso vale per quanto riguarda ovviamente il tipo di vaccino, se è da una dose, se da due dosi e da quando valgono i nove mesi piuttosto che i 180 giorni. Ecco, sono conteggi abbastanza articolati e per i quali la popolazione potrebbe essere in difficoltà. Per il momento per quanto riguarda l'utilizzo anche in Italia vige le due settimane dalla prima dose, vero? Però ci si stava orientando sul valutare... Sì, esatto, dal quindicesimo giorno è possibile richiederlo, però dalle ultime dichiarazioni che abbiamo sentito anche dai sottosegretari al Ministero si stava valutando se effettivamente per i cicli con due dosi rilasciarlo con la seconda dose piuttosto che rilasciarlo ovviamente dal quindicesimo giorno per quanto riguarda il ciclo unico. Però sono ovviamente situazioni che mettono in difficoltà soprattutto per chi magari aveva organizzato tra virgolette un viaggio e adesso non sa ovviamente come comportarsi. Si vedrà lo sviluppo anche nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Voi avete ricevuto tante chiamate anche rispetto alla campagna vaccinale con ulteriori dubbi che continuano a permanere anche su questo fronte. Certo, ovviamente per quanto riguarda l'obbligatorietà è un tema sicuramente molto delicato, molti stanno attendendo anche l'evoluzione della situazione, noi come associazione ovviamente la valutazione deve essere soggettiva sulla base della propria vita, dei familiari, delle persone che si frequentano, se magari nel nucleo familiare ci sono soggetti a rischio, quindi sono valutazioni soggettive. Ripeto, il tema è delicato e c'è ovviamente che si sta ancora aspettando per capire anche come si evolverà la materia in ambito ovviamente legislativo. Grazie, grazie Barbara per tutte queste informazioni. Valentina, se dallo studio non ci sono domande qui dalla sede dei consumatori attivi è tutto, è voi la linea. Grazie, grazie Monica, però rimaniamo in tema perché ci si potrà vaccinare in vacanza, sono gli ultimi dati, le ultime informazioni che arrivano per il momento da Piemonte e Liguria, che hanno fatto da pripista e hanno siglato un accordo all'insegna della reciprocità che sarà operativo il primo di luglio. La Lombardia starebbe sondando la possibilità di un analogo accordo sempre con la Liguria. La vaccinazione in vacanza consentirà alla campagna di non rallentare. Un timore che è stato espresso anche da Pierpaolo Sileri, ha detto che credo che da metà luglio ci sarà un calo di richiesta delle vaccinazioni, quindi l'invito è a insistere sulla vaccinazione anche dei ragazzi. Dobbiamo spingere per l'inoculazione alle persone sotto i 50 anni e non dare l'idea che ci si possa vaccinare a settembre-ottobre, cioè sul finire dell'estate perché proprio in quel periodo comincerà una recrudescenza dei contagi. Contagi spinti dalla variante Delta, che rappresenta al momento il 20% dei nuovi casi diagnosticati in Francia e a altri livelli di percentuali in altri paesi, anche quelli che hanno proseguito in maniera imperterrita con la campagna vaccinale e il ministro francese dice diventa progressivamente dominante e progredisce rispetto ad altre varianti. Bisognerà occorre restare molto vigili. Il numero di decessi legati al coronavirus in Russia è salito a 652 per esempio nelle ultime 24 ore, portando il totale a 134 mila morti. Si tratta del più alto numero di morti registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia, i 652 in Russia. Il tasso di mortalità è delle 2,45% e anche in regione continua il sequenziamento per cercare di capire il diffondersi della variante Delta. recentemente dagli ultimi dati elaborati dalle aziende sanitarie siamo sul 16%, ma spaventa molto anche l'incidenza in Veneto e di oggi appunto la notizia che ci sono diversi casi a Padova anche di bambini, 14 bambini che sono stati contagiati. Parliamo adesso di politica nazionale perché sulle prime pagine di tutti i giornali quest'oggi c'è il diverbio, lo scontro arrivato direi a un livello definitivo tra Grillo e Conte, uno scontro all'interno del Movimento 5 Stelle ma che ovviamente mina anche il governo e la collaborazione per esempio con Idem di Letta. Un rapido aggiornamento su che cosa è successo dopo il post di Grillo. Questa mattina Conte è stato intercettato, c'è un video che lo ritrae uscendo di casa e dice la svolta di Grillo è stata autarchica e mortifica una intera comunità. Grillo che in pratica l'ha sfiduciato, ha chiesto di votare sulla piattaforma Russo, i vertici del Movimento. e anche Vito Crimi in un post su Facebook ha detto Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione, una valutazione della proposta di riorganizzazione alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi su richiesta dello stesso Grillo, pur rientrando fra le sue facoltà in dire la votazione quindi chiedendo a Casaleggio di votare nuovamente sulla piattaforma Russo non concordo con la sua decisione e la piattaforma Russo è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al Movimento e consentirebbe tra l'altro di violare quanto disposto dal garante della privacy. quindi evidentemente sono in più a cercare di smorzare questa diatriba molto dura all'interno del Movimento 5 Stelle a livello nazionale. Per capirne di più siamo in collegamento con Cristian Sergo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle che ha un osservatorio privilegiato perché ovviamente è un consigliere del Movimento anche se in Friuli Venezia Giulia e non certo a Roma. So però che se ne sta discutendo molto nella capitale che lei è in contatto con i suoi colleghi. Buongiorno, Sergo. Sì, buongiorno a tutti. Salve. Sicuramente siamo in contatto anche con i nostri parlamentari per cercare di capire un po' cosa succede. Tutti quanti noi ci stiamo interrogando soprattutto su cosa succederà. È ovvio che nessuno di noi ha sfere di cristallo o altro ma come vedete le problematiche sono tante ne avete discusse anche, anzi ricordate anche poco fa. Non ultimo anche il caso che ci viene chiesta una votazione su una piattaforma e su cui già dagli stati generali ovviamente era nata una intenzione da parte della base degli attivisti di trovare una soluzione propria anche da parte del Movimento 5 Stelle per la piattaforma e così poi meno male si è fatto e sapete tutto il percorso che abbiamo anche dovuto affrontare con anche l'aiuto di Giuseppe Conde per venire in possesso dei dati dei nostri iscritti. Questa situazione paradossale che è stata stigmatizzata anche dal garante e nel momento in cui siamo riusciti in qualche modo a ottenerli adesso ci viene chiesta una votazione su questa piattaforma e credo che questo la dica lunga sulla situazione anche diciamo di confusione che si sta creando all'interno del Movimento. Confusione dettata probabilmente da vari errori che si sono susseguiti in questi mesi noi abbiamo dovuto aspettare troppo tempo per fare quello che la base aveva già indicato con gli stati generali perché l'idea del comitato direttivo non viene dal post di Beppe Grillo di ieri ma viene dalla discussione che c'è stata durante gli stati generali. Chiaro, se in quell'occasione noi avessimo avuto magari un'alternativa che era quella di individuare Giuseppe Conde come leader politico massimo probabilmente la base avrebbe fatto anche le sue valutazioni ma noi dobbiamo ricordare che veniamo fuori da un periodo in cui abbiamo avuto un capo politico e ovviamente se poi la decisione degli stati generali è stata quella di andare verso una scelta di guida condivisa in questo che viene definito comitato direttivo è chiaro che quella diciamo epoca magari si riteneva di doverla superare. Poi c'è stata questa richiesta... Le chiedo questo, molti però si sono già schierati apertamente con Conte mi rifaccio direttamente a quello che mi sta dicendo ad esempio il ministro Patuanelli che è di Trieste quindi immagino lo conosca bene. Sì 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 certo ma è chiaro che ci sono stati negli ultimi giorni molti tentativi ovviamente per cercare di ricucire uno strappo che ancora vabbè noi ovviamente tutti i retrosceni non li abbiamo non sappiamo se è uno strappo solamente di screzzi personali o personalismi o se c'è anche qualcosa di diciamo visione politica dietro questo atteggiamento e dietro questa problematica che c'è stata. Stefano Patuanelli il nostro ministro è stato uno di quelli che sono stati definiti pontieri proprio per cercare di una ricucitura che ovviamente è quella che tutti noi ospichiamo e ospichiamo ancora che Giuseppe Conte possa rimanere all'interno della nostra comunità nostra comunità che però ha dei principi ovviamente fermi e soprattutto dal punto di vista politico noi abbiamo delle cose che ci distinguono nettamente da altre formazioni politiche e noi dobbiamo continuare a batterci per queste senza indietreggiare di un millimetro per quelle che sono poi le politiche soprattutto diciamo mi riferisco a quelle ambientali ma mi riferisco ovviamente anche a quelle sulla giustizia, sociali quindi tutta una serie di cose che portiamo avanti praticamente solo noi nell'arco politico italiano e su cui non possiamo ovviamente né metterci a negoziare né riscrivere tutto quanto da capo Ma non credo che sia un problema di temi, Sergio, non penso che sia un problema di temi credo che sia un problema semplicemente di gestione del potere almeno così è quello che emerge dai post e dalle dichiarazioni dei due la base con chi è? La base lo vedremo perché ovviamente sapere la base con chi è non è sempre così facile ci sono chiaramente molti attivisti che auspicavano un intervento diretto e importante del Premier Conte e lo auspicavamo credo tutti perché questo è inevitabile però come detto il Movimento si è sempre basato non tanto sulle persone quanto sulle cose che ci sono da fare è chiaro che avere una persona seria e competente come l'Avvocato Ex Premier Giuseppe Conte era sicuramente un valore aggiunto per raggiungere determinati obiettivi ripeto se ci sono solo problematiche personali credo che anche le stesse si possano tranquillamente risolvere se invece i problemi erano di altro tipo probabilmente è bene che si mettano tutte le carte in tavola io dalla conferenza stampa ovviamente del Premier ho sentito parlare molto dell'organizzazione del Movimento e questa è una cosa che sappiamo tutti quanti era emersa anche negli Stati Generali che ci vuole una organizzazione territoriale molto forte e su cui noi dobbiamo ovviamente lavorare e farlo anche quanto prima visto che poi abbiamo anche degli appuntamenti non banali nel nostro futuro anche in regione ovviamente quindi un'organizzazione ci vuole sicuramente però ripeto un conto è l'organizzazione un conto sono i temi e le politiche che dobbiamo portare avanti per il bene di quei cittadini che ci stanno ascoltando da casa e che dell'organizzazione in sé del Movimento gli interessa poco gli interessa quello che riusciamo a fare e quello che riusciamo a incidere ovviamente nelle stanze è stato chiaro grazie a Cristian Sergo consigliere regionale del Movimento 5 Stelle monitoreremo ovviamente la situazione di questa giornata difficile da questo punto di vista noi adesso passiamo alla cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza di Pordenone perché è stato individuato una persona che otteneva misure di sostegno al reddito dalla regione pur risultando in passato disporre di 2 milioni di euro in contanti custoditi nel frigo presentando false attestazioni ISEE era riuscito ad ottenere erogazioni per il sostegno al reddito per complessivi 11.500 euro la Guardia di Finanza però l'ha smascherato a seguito degli ISEE presentati infatti attestava un valore inferiore al limite massimo stabilito dalla normativa ma gli accertamenti hanno notato che l'imprenditore aveva omesso di dichiarare la proprietà di alcune abitazioni di terreni che regolarmente riportati avrebbero determinato un valore dell'indice ovviamente molto più alto l'indagato era già surto agli onori della cronaca per altri fatti per frode fiscale in precisione e all'interno di un frigorifero quella volta erano stati trovati 2 milioni di euro in contanti prima messi sotto sequestro e poi confiscati ancora la cronaca con le operazioni dei carabinieri di Sacile denunciate 5 persone per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche numerosi gli incidenti stradali provocati dall'abuso dell'alcol fra questi anche quello provocato da una barista 34enne di Pordenone che è andata a schiantarsi con l'auto poi completamente distrutta dopo essere stata fermata è risultata positiva all'accertamento dell'alcol test con un valore di 2,51 invece a Trieste due cittadini bulgari di 50 e 53 anni pregiudicati per furto e nei cui confronti erano stati emessi i provvedimenti del divieto di ritorno a Trieste sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Duino perché rubavano nella pineta di Barcola sottraendo cellulari e beni di valore ai bagnanti che si erano allontanati lasciando in custoditi zaini e borse adesso invece parliamo di economia e in particolare di vino perché quest'oggi è stata presentata una rete d'impresa molto importante per la valorizzazione del Pino Bianco c'era per noi Monica Nardini abbiamo chiesto a uno dei referenti della rete d'impresa quali sono gli obiettivi a Dolegna del Coglio vediamo perché questo progetto e perché proprio il Pino Bianco? sicuramente al centro c'è la valorizzazione della varietà del Pino Bianco che si esprime al meglio in Friuli Venezia Giulio è sicuramente una delle migliori espressioni del mondo e in primo luogo forse ancora prima della varietà c'è la valorizzazione del territorio del Coglio il Coglio è sicuramente una chicca in Italia che è la patria dei bianchi più importanti e allora ci siamo messi insieme sette aziende per valorizzare questa straordinaria varietà dalla capacità di invecchiamento molto importante e in generale anche il nostro territorio che è un territorio straordinario che necessita di essere meglio comunicato a livello mondiale procederemo sicuramente cercando di portare gli opinion leader del mondo in Friuli Venezia Giulia nel Coglio e fargli toccare con mano quello che è il nostro lavoro quotidiano che poi è quello che caratterizza i nostri prodotti in secondo luogo sicuramente verranno organizzati eventi dedicati anche al consumatore finale che possano coinvolgere sempre di più le persone a visitare il Friuli Venezia Giulia a visitare il Coglio e a innalzare quello che è il valore appunto del nostro territorio parlando di questa straordinaria varietà che è il pino bianco che è una varietà che necessita un'attenzione una comunicazione sempre più attenta perché i territori oggi nel mondo che producono il pino bianco in purezza sono veramente pochi e sicuramente il nostro è un'eccellenza a livello planetario e questo era Alessandro Rotolo uno degli imprenditori che ha aderito alla rete d'impresa economia quindi che riparte nelle post-covid post-covid che ha lasciato tanti strascichi anche a ragazzi e adolescenti che sono alle prese con dei disturbi anche psichici difficoltà che molto spesso non vengono prese in carico dai servizi di neuropsichiatria infantile in Italia e anche nella nostra regione dopo il caso di Bologna in cui un sedicenne ha ucciso una coetanea perché gliel'hanno ordinato delle voci torna di stretta attualità il tema del disagio infantile ne abbiamo parlato con Silvana Cremaschi ex consigliera regionale ma soprattutto ex direttrice del servizio di neuropsichiatria infantile a Udile che ci ha parlato di una situazione drammatica sentiamo adesso la situazione è assolutamente esplosa due giorni fa c'è stato un convegno a latere della conferenza nazionale sulla salute mentale in cui hanno parlato insieme i responsabili delle neuropsichiatrie infantili e della salute mentale dell'adulto ed hanno evidenziato in modo drammatico la carenza assoluta di servizi di personale di spazi di urni per cui di fatto con tutta la buona volontà degli operatori che diventano matti e delle famiglie, dei genitori che cercano di inventare soluzioni per seguire i loro figli quando c'è una situazione grave non abbiamo le risorse sufficienti per dare le risposte adeguate allora quello che succede è che molti restano lì non vengono curati su 200 bambini che hanno bisogno di un intervento intensivo e potente solo 60 arrivano al servizio e di questi 60 solo la metà riesce ad avere il trattamento di cui ha bisogno ma non ci sono i LEA per la neuropsichiatria ci sono per tutto ma per la neuropsichiatria non ci sono non c'è un calcolo sulle liste d'attesa ho un caso di oggi che ha il primo appuntamento ma veramente perché non possono fare altro a settembre ma questo ragazzo con una crisi dissociativa importante come fa ad aspettare settembre chi lo cura intanto per cui adesso mi attiverò col servizio e qualche soluzione la troveremo ma la troveremo perché gli operatori staranno ore in più fuori dall'orario di lavoro e cercheranno di dare risposte non è dignitoso non è una cosa dignitosa che un paese come il nostro possa permettersi di ignorare la sofferenza dei ragazzi a Udine è una situazione drammatica Udine è grande metà della nostra regione l'azienda sanitaria di Udine e i posti letto di ricovero sono solo a Trieste e sono 4 più 2 mi pare cioè 2 direttamente in neuropsichiatria 4 presso la pediatria che però è a fianco ed è vicina e per fortuna che ci sono non ne servono tanti di più ma serve il centro di urno serve uno spazio in cui mia figlia anoressica venga dalle 8 di mattina alle 8 di sera sta lì nel periodo dell'emergenza torna a casa a dormire perché ha bisogno di casa sua della sua famiglia ma ha bisogno di mangiare con qualcuno che la accudisce e la segue ha bisogno di fare terapia e di seguire con gli psicologi o con gli operatori tutti i giorni e non una o due volte alla settimana o anche meno in caso in cui non si riesce ha bisogno di tutto questo bisogna intervenire subito Questo è l'appello di Silvana Cremaschi che abbiamo raccolto e che vi abbiamo proposto adesso invece ci spostiamo sul campo della Dacia Arena dove c'è Lorenzo Pausa per parlare di Udinese ma anche di basket e in particolare di Happy World Wild West Lorenzo buongiorno ben ritrovato Buongiorno a te Valentina e buongiorno anche a tutti i nostri telespettatori partiamo dal Udinese da quella che è la trattativa avviata nelle ultime ore per Juan Musso sul quale è spuntato l'interesse dell'Atalanta Atalanta che sta per perdere il proprio portiere titolare perché Gollini sta prendendo la direzione della Lazio ecco allora che ha virato decisamente sul argentino in forza al club bianconero che in questo periodo è al seguito della propria nazionale impegnata in Coppa America l'offerta dal club da parte del club aerobico si aggira attorno ai 20 milioni di euro una trattativa bene avviata sebbene ci sia ancora un pochettino di distanza tra domanda e offerta è chiaro che però se dovesse partire Musso a tutti gli effetti allora l'Udinese andrà a cercare almeno un elemento per reparto detto del portiere in difesa sarà invece da sostituire lo slot lasciato libero da Bonifazzi che non è stato riscattato al termine del prestito con la SPAL e anzi sta per accasarsi in una nuova squadra al Bologna per quanto riguarda invece il settore esterni possiamo darla ormai per fatta la trattativa che porterà Pedro Pereira a Udine giocatore di proprietà del Benfica ma che l'abbiamo visto nell'ultimo anno in forza al Crotone piuttosto servirà un rinforzo dall'altra parte sulla sinistra nel caso in cui dovesse partire Larsen perché in tale situazione rimarrebbe soltanto Marvin Ziegler con Oweian che anche egli al termine del prestito si è accasato allo Schalke 04 poi capitolo centrocampo perché anche la partenza di De Paul sembra ormai imminente manca solo l'ufficialità del suo passaggio all'Atletico Madrid che dovrebbe arrivare dopo l'impegno di Coppa America dell'Argentina contro l'Equador previsto per il 4 luglio e poi in attacco lì gli elementi che dovranno essere in arrivo saranno almeno due a prescindere dalla situazione di Maxi Romero che pare essersi ora arenata forse potrebbe addirittura saltare del tutto vista la divergenza esistente in questo momento tra l'Udinese e il PSV Eindhoven il club di appartenenza di Romero dove il giocatore si sta allenando a parte dopo un lungo infortunio al ginocchio proprio sulle condizioni fisiche del giocatore che sorgono i dubbi da parte del Udinese il PSV però non cede non intende far arrivare il giocatore a Udine neanche per un periodo di prova senza una firma ufficiale dicevamo a prescindere da questa situazione serviranno almeno due rinforzi perché Nestorowski e Braff sono anche loro lungodegenti e prima di novembre non saranno a disposizione ci vorrà quindi qualche elemento da affiancare a Pussetto e Deulofeu e anche a Stefano Caca che in questo momento sono i punti di partenza di un reparto offensivo che comunque dovrà migliorare la propria produttività questo per quanto riguarda l'Udinese che incomincerà il raduno a partire dalle 7 luglio c'è una notizia importante invece che arriva dall'App World Wild West Udine parliamo di basket perché il club del presidente Pedone ha ufficializzato il prosieguo del matrimonio con il suo coach Matteo Boniccioli che resterà alla guida dei bianconeri fino al 2023 dopo questa prima fantastica stagione che ha portato l'Old Wild West a un passo dalla promozione in Serie A quindi si preannuncia un percorso triennale così come era stato precedentemente per Lino e Lardo adesso dopo la finale persa in gara 4 con Napoli giustamente un periodo di meritata vacanza e poi ci riproverà la squadra del presidente Pedone l'anno prossimo a tentare il grande salto di categoria a te questi quindi gli obiettivi di coach Boniccioli e della PU All Wild West noi ci fermiamo qui vi ricordo che l'informazione ritorna come sempre alle 16 alle 19 e poi alle 22 30 nel pomeriggio spazio al calcio occorre il nostro appuntamento quotidiano delle ore 15 poi music machine alle 17 e 15 e questa sera gli speciali delle TG il consueto appuntamento con Francesco Pezzella e i suoi ospiti il tema di quest'oggi è la variante economica le incognite della ripresa grazie per averci seguito vi lascio le previsioni del tempo per questa giornata e vi auguro un buon proseguimento insieme a Udinese TV un saluto e ben ritrovati agli amici di Udinese TV da Vanessa Minotti di Trebi Meteo l'alta pressione nella giornata di mercoledì continuerà a coinvolgere il Friuli Venezia Giulia ma una perturbazione che transita oltre Alpe apporterà dei fenomeni principalmente sui settori montuosi temperature massime in live e flessione ma in un contesto climatico ancora caldo ed estivo in dettaglio tra Udine e Pordenone giornata in prevalenza soleggiata tra pomeriggio e sera segnalo la formazione di temporali di calore principalmente sui settori montuosi che potranno occasionalmente in serata sconfinare anche sulle zone di pianura clima già piacevole in mattinata con minimi intorno ai 20-22 gradi valori poi ripresa nel corso del giorno seppur come vi dicevo in lieve flessione rispetto alle giornate precedenti diamo uno sguardo anche alla situazione prevista tra Gorizia e Trieste qui la situazione sarà stabile e asciutta con ampi spazi assolati transiteranno degli annuvolamenti temperature massime intorno ai 30 gradi ventilazione debole a tratti moderata con mare da calmo a poco mosso con questo è tutto ma per sapere nel dettaglio cosa accadrà da voi scaricate l'app di Trevi Meteo di Trevi Meteo di Trevi Meteo Grazie a tutti.